Per l'Ast di Terni si sta aprendo positivamente uno spiraglio. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sintetizza così l'esito della riunione di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico sul futuro dell'acciaieria. L'azienda infatti si è impegnata al pagamento degli stipendi di ottobre entro lunedì e a modificare il piano industriale con 100 milioni in più di investimenti e il mantenimento dei due forni. Le parti si risiederanno al tavolo lunedì prossimo, anche se la strada per un accordo sembra ancora lunga, come dimostra la decisione dei lavoratori di continuare lo sciopero che da oltre due settimane blocca l'acciaieria. Aziende e sindacati hanno però trovato un'intesa per cui nei prossimi giorni il personale amministrativo sarà esentato dallo sciopero e 150 lavoratori entreranno per effettuare i pagamenti, mentre l'attività dell'azienda e le spedizioni rimarranno bloccate. Asta ha poi confermato ai sindacati le modifiche del piano industriale che il ministro Federica Guidi aveva anticipato la settimana scorsa con una produzione minima di un milione di tonnellate di acciaio fuso all'anno. Il leader FIOM, Maurizio Landini, ha infine dovuto intervenire per chiarire che nessuno ha sospeso lo sciopero che continua finché non sarà fatto un accordo che modifica la situazione. Per Landini, infatti, i problemi rimangono tutti, stipendi e licenziamenti. È questa la trattativa che dobbiamo fare. Grazie a tutti.